Come vedete ci premuniamo per tutto ciò che può succedere, mi sono anche dato lo spray per le zanzare, ridete ma chi non l'ha fatto riderà dopo. Bene allora, buonasera, siamo qui per sentire come abbiamo detto un canto dell'Odissea che è il dodicesimo ma prima di arrivare lì naturalmente dobbiamo fare un po' di introduzione perché sono sicuro che tutti si ricorderanno l'Odissea a memoria o delle parti perlomeno e quindi vi racconto anzitutto prima un po' l'impianto di questo grande libro e poi entriamo nei dettagli. Naturalmente spero che sappiate che io non sono né Paolo Rossi né uno degli attori che si sono avvicendati e si avvicendano in questa lettura e che quindi è inutile che io declami con la mia voce versi che poi sono stati scritti in un'altra lingua ma ne parleremo e sono qui come matematico naturalmente quindi potete ovviamente decidere se rimanere o andarvene quando volete soprattutto quando comincerò a parlare appunto di matematica. Cosa c'entra la matematica con l'Odissea? Un momento, adesso vediamo. Dunque anzitutto stiamo per parlare di appunto uno dei grandi libri dell'antichità uno dei due grandi libri dell'antichità perlomeno della nostra cultura, della cultura greca e quello che ne consegue. L'autore come tutti sapete si chiama, si dice che si chiami Omero non sappiamo nemmeno se sia mai esistito come spesso succede per quei personaggi ma non ci interessa perché i libri qualcuno li ha scritti quindi insomma chiamarlo Omero o in un altro modo non importa molto. Che libri sono? Sono i libri che in certo senso sono stati più fortunati della storia perché? Lasciamo che ce lo dica Borges che come voi sapete era un grande lettore Umberto Eco che è un po' invidioso in queste cose naturalmente diceva che Borges ha letto tutto ciò che è stato scritto e anche di più ora uno può pensare, dice come fa? Anche di più in realtà perché Borges non soltanto era il direttore della biblioteca di Buenos Aires e quindi effettivamente andava leggendo o facendosi leggere visto che era cieco per una buona parte della sua vita esattamente come Omero quindi c'è una certa affinità e però Borges a volte si inventava autori inesistenti si inventava le opere che questi autori avrebbero potuto scrivere e in questo senso appunto Eco diceva ha letto addirittura di più di ciò che è stato scritto cosa diceva Borges quindi questo grande lettore del Novecento su Omero? diceva Omero appunto è lo scrittore più fortunato perché ha raccontato le storie che poi tutti racconteranno come mai? cosa c'è nell'Odissea e prima ancora nell'Iliade che poi verrà ripetuto all'infinito da tutti gli scrittori e per lo meno della nostra civiltà beh ci sono le storie di tre grandi argomenti che sono quelli che poi ci interessano continuano a foraggiare diciamo così i serial televisivi eccetera c'è l'amore tanto per cominciare ovviamente Elena e tutte le cose che seguono c'è la guerra perché quando c'è l'amore poi naturalmente quello consegue e ci sono i viaggi e ovviamente mentre l'amore e la guerra soprattutto non stanno nel primo volume nell'Iliade i viaggi stanno soprattutto nel secondo c'è anche molto amore adesso ci arriviamo quindi Omero scrittore fortunato ha raccontato quello che poi tutti gli altri non faranno che riraccontare che copiare Borges però che tra l'altro è colpevole da questo punto di vista di aver raccontato anche lui molte storie diceva ma non è poi così importante che cosa si racconta certo le cose che si raccontano sono sempre quelle però ogni scrittore in particolare lui le racconta con una voce diversa in un tempo e in un luogo diverso e quindi queste storie appaiono come variazioni su un tema ma sono differenti quando noi le leggiamo quindi sapere che Omero ha già raccontato tutto non significa che non dovete leggere altri per esempio come Borges Omero fortunato abbiamo detto però anche sfortunato perché Omero era greco ora voi direte certo essere greci soprattutto in questi tempi non è proprio una gran fortuna ma non era quello a cui intendevo riferirmi in realtà la sfortuna di Omero è che Omero parlava una lingua che era il greco antico che ormai non si parla più nemmeno in Grecia in Grecia si parla il greco moderno noi ovviamente parliamo altre lingue quindi ci tocca purtroppo l'Odissea l'Iliade leggerla in traduzione ma dobbiamo essere molto sospettosi di queste traduzioni io tra l'altro continuo a cambiare traduzione ogni volta che faccio questa chiacchierata perché non sono soddisfatto di quello che i professoristi della traduzione fanno ma non è tanto quello il problema che non sappiano che cosa tradurre il problema è che il greco di Omero è un greco antico antico due volte antico non è soltanto il greco per esempio di Platone che ovviamente è un po' come il latino per noi ma è un greco addirittura precedente è un greco che pensate non aveva parole nemmeno per le due cose diciamo così due concetti che a noi appaiono più importanti se vogliamo parlare degli uomini non aveva una parola per indicare il corpo e non aveva una parola per indicare la mente e allora di cosa stiamo parlando come mai non c'erano queste parole nel greco antico anche se c'erano le parole che poi in seguito qualche secolo dopo in particolare verso il 600 il 500 prima della nostra era andranno a indicare per l'appunto da una parte il corpo cioè Soma e dall'altra parte la mente cioè Psiche come mai non c'erano queste parole perché all'epoca non c'era ancora il concetto di corpo ora voi direte insomma i greci sono quello che sono però insomma almeno l'idea che qualcuno avesse un corpo invece no non c'era come mai per i greci il corpo era cioè inteso come un tutto unico era soltanto il corpo del cadavere cioè il corpo morto mentre invece quando si parlava di un corpo vivo beh c'erano le varie membra di questo corpo ma ciascuna aveva una specie di vitalità autonoma ancora oggi tra l'altro se voi pensate all'inglese ad esempio cadavere in inglese si scrive corpse si legge senza la S che è muta e questo ci ricorda per l'appunto che una volta corpo stava a indicare il corpo morto il cadavere e come facevano i greci a guardare a un corpo vivo invece beh vedevano le sue membra per esempio vedevano le mani le avambraccia le braccia il torso la testa e così via sapevano che c'erano organi interni naturalmente quando dovevano riferirsi a ciò che noi oggi indichiamo con una parola generica e generale la mente la coscienza eccetera indicavano quali erano gli effetti di questa noi diremmo oggi di questa supposta mente di questa supposta coscienza sulle varie membra e allora per esempio non so quando si vede qualcuno una signorina pensate per esempio Ulisse che sbarca su una spiaggia lo vedremo tra un momento e vede davanti Nausicaa che cosa fa? e beh incomincia a battergli il cuore il respiro incomincia ad affannarsi la voce comincia a stridere non è più così le gambe un po' gli cedono e così via tutto questo per una signorina e quindi immaginiamolo se fossimo in guerra eccetera queste sono le emozioni le emozioni venivano viste non ipostatizzate come facciamo noi oggi che siamo imbevuti di filosofia e crediamo a tutte queste cose che esistono indipendentemente le emozioni erano semplicemente gli effetti che queste emozioni provocavano sulle varie parti del corpo umano e allora considerare parlare del corpo e della mente cioè delle emozioni e delle azioni in questo modo faceva sì che la lingua di Omero fosse molto diversa dalla lingua che poi noi siamo abituati ad usare oggi anche questo è una delle difficoltà della traduzione di Omero cioè non capire che in realtà quando si vedono parole che poi in seguito hanno acquistato un significato diverso e beh quelle parole all'epoca non stavano a indicare per l'appunto le cose che indicano oggi c'è un bel libro che di un signore si chiama James che si intitola il crollo della mente bicamerale come mai? beh perché i greci avevano anche altri problemi oltre a quei vedete no che lista sembra quasi la troica che sta elencando quali sono appunto i problemi della Grecia avevano un problema che è il più importante di tutti che ha a che fare vagamente con questo concetto di psiche di mente o di coscienza al quale accennato il fatto che e molti di voi se lo ricorderanno per aver visto sceneggiati oppure per più culturalmente aver letto traduzioni o addirittura l'originale dell'Odisseo dell'Iliade il fatto che questi strani greci andavano a passeggio per esempio passeggiavano per una strada da soli e tutto in un colpo tac qualcuno gli appariva vicino e diceva chi è lei sono palla di Atena ah bene facciamo due chiacchiere ora oggi se qualcuno dicesse sono andato a passeggio non mi è apparsa palla di Atena o se per questo no stavo per dire se per questo la Madonna ma quando appare la Madonna è una cosa diversa perché lì allora ci si crede ma palla di Atena farebbe subito pensare che c'è qualcosa di strano nella testa di questa gente sentire delle voci non è mai una bella cosa e spesso è l'indice del fatto che qualche cosa non funziona perfettamente dentro se non tutto il corpo perlomeno quella parte del corpo che sta appunto intorno alla testa e il cervello e allora che cosa vuol dire James con il crollo della mente di Camerale James dice beh se noi leggiamo proprio i testi di Omero e stiamo attenti agli indizi che Omero dissemina senza volerlo fare naturalmente in maniera inconscia diremmo noi oggi ci accorgiamo che i greci di allora erano probabilmente degli schizofrenici cioè pensavano di sentire delle voci ovviamente le voci stanno dentro di noi e non fuori di noi quando le sentiamo è tipico sentire le voci proprio di quella malattia della mente che si chiama schizofrenia perché il crollo della mente bicamerale e beh James dice beh oggi quando noi leggiamo queste opere le cose ci appaiono strane ma evidentemente non apparivano così strane ai lettori dell'epoca per i quali invece queste cose probabilmente erano la normalità quotidiana Omero non stava prendendo in giro i greci del suo tempo ma stava semplicemente raccontando quello che lui e gli altri come lui sentivano o credevano di sentire questa mente bicamerale per l'appunto divisa quello che permette di avere un pensiero schizofrenico per l'appunto e di sentire una voce che in realtà fa parte dentro di noi come se fosse qualcosa di diverso e quello che appunto James diceva era la condizione normale del greco antico e che invece oggi non c'è più perché questa mente bicamerale è crollata e allora coloro che ancora oggi continuano a sentire le voci vengono considerate come degli eccentrici e spesso finiscono in manicomio per esempio molti di voi avranno visto un film su quel grande matematico che si chiama John Nash il film Beautiful Mind Nash è morto tra l'altro come voi sapete qualche settimana fa alla fine di maggio in un incidente stradale a 85 anni insieme a sua moglie e Nash era noto era famoso proprio per aver sentito queste voci ed essere finito in manicomio perché esempio di ciò che una volta invece secondo James e secondo Mero perlomeno come scrive era la condizione tipica dell'uomo di allora naturalmente non erano solo i greci a sentire le voci intendiamoci probabilmente era una condizione tipica dell'umanità dell'epoca se voi prendete un altro libro che è la Bibbia un altro delle grandi opere dell'antichità anche lì è pieno di gente che sente voci ci sono i patriarchi Abramo che a un certo punto sente una voce che gli dice devi uccidere tuo figlio per farmi un sacrificio e poi in seguito viene Mosè il quale ha affaticato le membra salendo su quella collina poiché è il Sinai a un certo punto comincia ad avere le traveggole vede i roveti ardenti sente questi roveti che parlano si vede le nuvole e ci sono le voci che arrivano dalle nuvole eccetera io ho avuto il piacere di conoscere bene appunto Nash e gli ho chiesto un giorno e gli dico ma è questa gente che dice queste cose oppure Socrate per esempio chi di voi ha letto i dialoghi socratici in cui Socrate dice ah oggi non sono venuto all'appuntamento perché dice no no mi sono ricordato lo sapevo benissimo ma una voce mi ha detto di non venire oddio quello sembrerebbe una scusa detta così ma quando uno continua a ripetere queste cose sento una voce che mi dice di non fare questa cosa non fare quell'altra e questo è problematico infatti Nash dice beh certo se uno che dicesse queste cose non gli si potrebbe consigliare di non dirla ad alta voce perché altrimenti finirebbe male ecco quindi la condizione della mente che ha generato l'Odissea e l'Iliade e che in realtà si è ispirata a come funzionava la mente dei suoi conterranei allo stesso tempo il fatto di sentire delle voci ancora oggi viene tramandato ma in una forma un po' edulcorata naturalmente quasi metaforica noi diciamo che sono i poeti che sentono l'ispirazione però attenzione perché un poeta come Omero quando iniziava i suoi due volumi appunto l'Iliade in un caso e l'Odissea nell'altro faceva appunto un'invocazione a colui o colei che doveva in realtà dirgli suggerirgli attraverso una voce ciò che lui avrebbe dovuto scrivere il poeta nell'antichità e non solo nell'antichità perché ancora oggi i poeti spesso hanno queste pretese dicevano non scriviamo ciò che noi vogliamo ma scriviamo ciò che viene dettato ciò che ditta dentro dirà un altro poeta vo significando poeta che parlava finalmente in italiano l'Iliade incomincia come tutti sapete cantami o diva del peli d'Achille cantami o diva c'è una diva una divinità che gli canta quello che poi lui deve scrivere e invece il secondo volume l'Odissea incomincia dicendo parlami o musa e siamo alle solite c'è una musa che ovviamente è una delle divinità dell'arte musiche una volta per i greci non era la musica cioè l'acustica come la chiameremo oggi l'arte che ha a che fare con i suoni ma era semplicemente ciò che noi diremmo appunto l'arte le musiche erano le le arti protette appunto dalle mus e Omero dice parlami o musa raccontami ciò che io devo semplicemente trascrivere e naturalmente questa ispirazione è quella che appunto i poeti sostengono di avere bene questa è semplicemente una premessa stiamo cercando di capire come Omero era dentro di sé come cercava di riflettere il suo tempo e la sua gente che cosa racconta questo di sé per coloro che non hanno visto le puntate precedenti come si dice ho sentito le puntate precedenti però questa volta se pensate di sentire una voce vi assicuro che sto parlando io anche se poi le voci dicono sempre così tra l'altro è interessante che la voce di Socrate dicesse sempre non fare queste cose e non gli dicessi invece fai queste altre cose se voi andate a prendere appunto voci che sono arrivate da altri altoparlanti in Medio Oriente al quale alludevo prima e beh guardate i comandamenti vi accorgete che la maggioranza dei comandamenti 6 su 10 dicono appunto non fare questo una lunga lista di cose che invece tutti desidereremo fare non desiderare la donna d'altri non me ne ricordo perché l'unico che mi preoccupa è quello ma comunque è negativo perché? e beh forse perché anche qui ci si potrebbe meditare sopra perché probabilmente è più facile sapere che cos'è male e quindi dice non fare il male che non sapere che cos'è il bene e quindi dire di fare il bene ma comunque arriviamo a un breve riassunto di ciò che è questo grande libro l'Odissea allora anzitutto è già stato detto che sono 24 canti perché sono 24 canti uno si potrebbe chiedere perché 24 e non 22 per esempio o 20 o 30 eccetera beh la cosa interessante perché i greci che erano questi grandi letterati ovviamente non c'era solo ma erano ce ne sono tanti altri che sono venuti dopo grandi filosofi non erano poi quei grandi aritmetici erano i grandi matematici anche grandi geometri Euclide per esempio e così via ma non erano questi grandi aritmetici non sapevano scrivere i numeri non avevano nemmeno delle cifre a parte lo zero che ovviamente quello poi non ce l'aveva nessuno eccetto gli indiani molti secoli dopo in realtà 1500 anni dopo Omero pensate ma e comunque 7-800 anni dopo Euclide non avevano le cifre nemmeno per 1 2 3 eccetera fino a 9 e allora come facevano a scrivere i numeri usavano le lettere dell'alfabeto perché e beh agli inizi i numeri si indicavano semplicemente in maniera molto convenzionale dipendeva da dove si era i numeri in genere sono stati identificati con le parti del nostro corpo quindi era abbastanza tipico dire per esempio numero 1 chiamarlo pollice per esempio numero 2 chiamarlo indice non medio e così via e poi continuare ci sono parti del nostro corpo però è un po' convenzionale partire da una mano delle dita e non invece dalle parti ad esempio della nostra testa e così via quindi per molti secoli per millenni in realtà i popoli diversi in particolare i popoli del Mediterraneo avevano ciascuno un modo diverso di identificare i numeri di chiamarli di nominarli attraverso parole ma ci fu un momento molti secoli prima di Omero circa 5 secoli diciamo nel 1500 prima della nostra era quando i fenici in realtà cartaginesi poi no così incominciarono a scoprire quello che poi divenne l'alfabeto la scrittura identificarono una ventina di simboli nell'alfabeto finicio erano 22 di questi simboli e l'alfabeto praticamente invase l'intero Mediterraneo perché era una di quelle tecnologie oggi noi non ce ne accorgiamo ce lo insegnano fin dall'elementare anche prima ormai quindi lo prendiamo così è scontato per noi ma è stata una delle grandi tecnologie che hanno cambiato la storia della civiltà e la storia soprattutto della cultura e allora ciascun popolo si impossessò di questa nuova tecnologia che è la tecnologia dell'alfabeto e però lo adattò ovviamente alla sua lingua perché varie lingue avevano suoni differenti non tutti erano uguali eccetera i greci lo adattarono alla propria lingua la lingua greca antica e avevano bisogno di 24 simboli per l'alfabeto greco e allora usarono ad un certo punto questi simboli come nomi per i numeri e così fecero tutti gli altri popoli del Mediterraneo ormai l'alfabeto era diventato quasi universale perlomeno nell'universo ristretto del Mediterraneo e poiché l'alfabeto era universale si poteva usare per identificare i numeri che anch'essi erano in qualche modo universali e allora le 24 lettere dell'alfabeto greco stavano a indicare i numeri da 0 da 1 perdono questo è il matematico che ha un inconscio naturalmente dopo Freud da 1 fino a 24 comunque se volete da 0 a 23 non cambia molto sono 24 numeri e quindi il primo canto si chiamava canto alfa poi beta poi gamma e così via questi erano giochi o meglio erano modi semplicemente di identificare poi in seguito i greci cominciarono a divertirsi perché a forza di ripeterle queste odissee cioè insomma vengono un po' a noia anche a noi che continuiamo a farle tutte le sere così in giro per la Liguria e non soltanto fino all'affondo dello stivale e allora per esempio ci furono dei poeti greci che stufi di ripetere sempre questi versi di Omero cominciarono a dire ma poiché ci sono 24 lettere e poiché questi canti sono identificati attraverso le lettere perché non facciamo qualche cosa di un po' più vivace per esempio prendiamo il primo canto che è appunto identificato con l'alfa e lo riscriviamo in maniera che l'alfa non compaia facciamo quello che si chiamano un lippogramma appunto parola greca naturalmente lipo tutti soprattutto i signori sanno quando si fa la liposuzione e questa la prima liposuzione si toglie una parte dell'alfabeto da un canto e allora ci fu questo signore che si chiamava Nestore di Laland che ad un certo punto riscrisse l'Ilia dell'Odissea togliendo l'alfa dal primo canto la beta dal secondo canto eccetera e subito queste cose sono state rivitalizzate e hanno acquistato un significato diverso comunque sono 24 questo era il motivo per cui ho detto queste cose come sono divisi questi canti sono divisi in maniera ineguale sono divisi la prima metà e la seconda metà voi direte mi sembra abbastanza uguale sì ma la prima metà è divisa ancora in tre parti mentre la seconda parte gli ultimi dodici canti sono diciamo così l'orgasmo finale la scena la scena madre quando Ulisse arriva a Itaca l'Odissea incomincia benché sia la storia di Ulisse come dice il titolo Odissea incomincia senza Ulisse ci sono quattro canti sono un lungo prologo che si chiama la telemachia perché come voi sapete telemaco era il figlio di Ulisse sono i canti che cercano di farci capire fin dagli inizi dove si andrà a parare fanno vedere la casa che Ulisse aveva lasciata per andare in guerra contro voglia poi lo vedremo perché era un tipo che amava fare una vita diversa non aveva voglia di andare a combattere soprattutto con le donne altrui non aveva già le sue da pensare e ci racconta qual era la casa vi ricordate per esempio il letto che era stato tagliato era un albero praticamente tagliato attorno al quale poi fu costruita la camera nuziale questo sarà uno dei dettagli degli indizi che faranno capire a Penelope poi che Ulisse era veramente lui e così via e poi ci racconta che cosa stava succedendo in questa casa questa casa che era sguarnita ormai da vent'anni perché Ulisse se n'era partita era andata a combattere la guerra era durata dieci anni anche se l'Iliade ovviamente parla soltanto degli ultimi giorni della guerra e poi era andata in giro per il mondo per altri dieci anni prima di ritornare a casa anche se l'Odissea parla soltanto degli ultimi due mesi praticamente di questo peregrinare di questa Odissea perché ormai è diventato sinonimo quasi questo peregrinare così lungo e quindi questo è il setting diciamo così la scenografia di ciò che succederà alla fine quattro canti per questo poi ci sono i canti gli altri quattro successivi i canti dal quinto all'ottavo in cui in realtà finalmente vediamo Ulisse naturalmente voi non avete le lampade su di voi in un certo senso è positivo questa cosa perché le lampade attraggono a causa della forza elettromagnetica tra un po' avrò una nuvola e non pensiate che io sia un rovetto ardente che parlano sono proprio io in mezzo ai moscerini e comunque mi sono spruzzato quindi spero che almeno questo mi permetta allora che cosa succede nel quinto canto quando finalmente incomincia l'Odissea finalmente vediamo il protagonista cosa fa il protagonista è girato dall'altra parte ma in questo caso perché il mare è lì sta guardando lontano nel mare la suggestione che dovremmo avere da questa scena è che sta guardando verso Itaca perché là c'è la sua amata moglie Penelope che la sta aspettando lui vuole andare da Penelope sono passati vent'anni si sta struggendo di quest'amore poi però ci guardiamo intorno e dice ma dov'è Ulisse e beh è in un'isola nell'isola di Ogigia ed è lì naufrago da solo come ogni tanto si vede nei film di Olio ma che c'è una signora con lui una signora niente male tra l'altro si chiama Calipso una ninfa e poi ci sono tre bambini da dove saltano fuori questi bambini sono saltati fuori dalla ninfa ma chi ce l'ha messi dentro però ce l'ha messi dentro Ulisse il quale sta guardando a questa moglie che ha lasciato laggiù con un figlio da vent'anni e noi dovremmo credere a questo grande amore quando lui è lì con una nuova moglie ormai con tre figli e semplicemente sta dicendo che non potrei fare con questa qua quello che ho fatto con quell'altra partirmene e andarmene via questi sono i secondi quattro canti diciamo così vediamo Ulisse che sta meditando di abbandonare per la seconda volta una famiglia con i nuovi figli eccetera e soprattutto questa ninfa sulla quale ritorneremo perché è una persona interessante ma concludiamo prima il riassunto diciamo così nelle puntate precedenti poi ci sono altri quattro canti per arrivare a dodici e questi sono in realtà in genere i canti ai quali ci si riferisce quando si pensa all'odissea e qui che sono concentrate tutte le avventure di quei dieci anni che Ulisse ha passato peregrinando per i mari perché perché lui finalmente se ne va per l'appunto da Calypso arriva con una zattera con una nave nella terra dei fiaci e c'è il re Alcino il quale lo accoglie sulla spiaggia naturalmente incontra la signorina Nausicaa che ho già citato prima eccetera e si va a cena per alcune giornate il naufrago diciamo così il re di viva viene ospitato dal re e dalla corte i quali gli chiedono ovviamente da dove viene chi è che cosa ha fatto le solite domande chi siamo dove andiamo e dove andiamo e qui si introduce questo è uno dei colpi di genio che poi diventeranno talmente usuali nell'arte di raccontare le storie che per esempio i film di Hollywood ne faranno ovviamente uno dei diciamo così uno dei loro modi di espressione la tecnica del flashback cioè in realtà in questo racconto che è il racconto soltanto della parte finale del viaggio di Ulisse verso casa in alcune sere in cui lui viene invitato a cena e racconta le sue avventure si ritorna indietro ed è qui che compaiono tutti quei personaggi che sono già stati citati nell'introduzione per esempio la famosa scena dei ciclopi con Polifemo eccetera quel trucco meraviglioso di dire chi sei e mi chiamo nessuno di modo che poi così quando arrivano gli amici dice chi ti ha fatto male nessuno mi ha fatto male una roba che oggi ci farebbe con tutti i trucchi che abbiamo visto veramente fremere lo spirito eccetera torcere le buddelle eccetera si racconta di altre donne perché poi questo signore non è mica che ne avesse solo due ne aveva viste da tutte le parti c'era questa circe tra l'altro da cui è cominciata tutta l'avventura di queste letture come abbiamo sentito dell'Odissea circe che era una signora che aveva il potere che hanno tutte le signore cioè come sapete trasformare gli uomini in porci e vabbè questa è una metafora è così vedo che qualche signore contenta di questa intuizione omerica soltanto laggiù al fondo eccetera ci sono le sirene che naturalmente Ulisse vuole sentire perché cantano questi canti meravigliosi e allora si inventano tra l'altro questa è una delle invenzioni che poi cambieranno il mondo i tappi per le orecchie perché poi soprattutto nelle sere d'estate quando uno dorme con le finestre aperte senza questa invenzione per la prima volta usata i canti di sirene oggi non è quello che non vogliamo sentire sono le sirene magari delle autoambulanze eccetera e notate come poi alla fine le parole sono rimaste perché sirena anche quella e Ulisse però invece si fa legare al palo della nave perché vuole sentirli questi canti qua è un uomo così e poi finalmente ad un certo punto lo saluta Alcino e dice basta basta devo andare e l'ultima parte gli ultimi dodici canti sono i canti in cui lui arriva a casa e naturalmente prima arriva dopo vent'anni chi volete che lo riconosca nessuno più pensava che sarebbe ritornato anche perché gli altri o erano morti quelli che erano partiti oppure erano tornati come persone normali ma hanno d'altra parte non solo diventati i protagonisti di un'odissea allora prima di andare avanti però volevo fare una piccola meditazione sulla signora Calipso perché Calipso era rappresentata all'epoca come la dea velata aveva un velo che la copria come d'altra parte molte signore lo usano ancora oggi e che cosa succede a Calipso quando si trova di fronte a un signore come Ulisse per l'appunto che questo velo insomma vorrebbe con tutto rispetto naturalmente però toglierlo vorrebbe vedere cosa c'è sotto a questo velo succede letteralmente in greco quello che si chiama un apocalissi apocalipsis significa quella che non significa mi faccio la signorina Calipso bensì tolgo il velo con cui Calipso è identificata l'apocalissi vuol dire solo quello apo è privativo e Calipsis è appunto la velatura e allora l'apocalissi è il disvelamento lo svelare ciò che è velato lo scoprire ciò che è coperto ora notate che queste sono parole che sono arrivate addirittura fino a noi in italiano attraverso i calchi prima latini e poi ovviamente le traduzioni italiane noi abbiamo questo concetto di vedere qualcuno che è velato qualcosa che è velato e cercare di togliere questo velo di scoprire cosa sta sotto a ciò che è nascosto ora questo è uno dei modi in cui i greci identificavano il concetto che noi chiamiamo verità la verità per i greci era tante cose adesso le vedremo anche un'altra ma questa era una delle più importanti era il disvelamento la scoperta e che tipo di verità è questa beh è la verità di qualcuno che guarda intorno a sé ci sono delle cose che non capisce che non vede perché sono nascoste appunto e lui vuole togliere questo velo che le copre per cercare di capirle meglio pensate per esempio agli inizi del novecento quando la nuova fisica stava stava nascendo la meccanica quantistica Albert Einstein ormai era uno dei riconosciuti santoni della nuova fisica e nel comitato di laurea di un principe francese che si chiamava De Broglie un ragazzo all'epoca comunque principe figlio di principi e questo signore presenta una tesi una tesi che poi rivoluzionerà la meccanica quantistica di lì incomincia la rivoluzione a prendere piede Einstein tra i commissari legge la tesi e il suo giudizio su questa tesi è De Broglie ha sollevato un lembo del grande velo sono passati tremila anni da Omero e da Calipso eccetera e siamo ancora lì Einstein ha questa immagine della natura la natura è coperta da un grande velo e naturalmente non è che uno toglie il velo e vede tutto si alza di qui di là si vede così a brandelli un pezzettino qui un pezzettino là e questa è l'immagine della verità scientifica la natura ci appare coperta velata Calipso è un simbolo diciamo così una metafora della natura delle cose che ci stanno intorno e noi siamo in realtà dei seguaci degli eponimi di Ulisse perché cerchiamo di guardare di curiosare sotto questo velo quindi è una nozione di verità molto importante che è quella alla quale in genere noi ci riferiamo quando diciamo abbiamo scoperto una verità scoperto vuol dire proprio quello Apocalisse notate che poi ha acquistato questo significato diciamo così catastrofico soltanto perché è stato usato nell'ultimo libro della Bibbia nel libro dell'Apocalisse che in realtà tradotto letteralmente si tradurrebbe il libro della rivelazione la rivelazione di Giovanni Giovanni il quale si era fumato non si sa che cosa prima di scrivere quel libro basta leggerlo e naturalmente si capisce che è altro che rivelazione quello comunque è come quei film train spotting si potrebbe dire ma comunque invece di tradurlo come rivelazione si è lasciata la parola originale greca Apocalissi uno legge sta roba e dice mamma mia questo è un Apocalissi ma vuol soltanto dire quello ci sono altre nozioni di verità che avevano i greci beh certamente questa è la cosa interessante la nozione più importante per i greci non era questa qui perché noi oggi consideriamo la scoperta scientifica come l'esempio tipico di scoperta di verità ma i greci che erano dei razionalisti da una parte quelli che lo erano naturalmente era un popolo diviso già allora in parti diverse ricordatevi Nice per esempio l'Apolliaco l'Apollineo e il Dionisiaco qui sto parlando ovviamente dell'Apollineo poi c'erano pure quegli altri che facevano i bacanali eccetera ma erano altra gente e allora per i greci la parte più importante della verità era la verità razionale e anche questa era una verità identificata con una parola negativa esattamente come Apocalipsis solo che si chiamava Aletheiano che cos'è che veniva negato da questo A Letheiano deriva dal verbo lantano eccetera ma di nuovo c'è qualcuno una signora che può identificare incorporare il concetto esattamente come Calypso rappresentava ciò che era nascosto ciò che era velato e questa signora è la dea Lethe Lethe a noi italiani è nota perché Dante poi ha usato l'espressione la metafora di Lethe nel famoso fiume che ovviamente era un fiume metaforico della mitologia della mitologia greca il fiume in cui le anime del purgatorio dopo essere state purgate pure io sto solo in un purgatorio ma comunque spero che questo mi farà dei meriti per il futuro visto che ho tanti demeriti da quella parrocchia e allora dicevano le anime del purgatorio che hanno già pagato la colpa di aver commesso dei peccati veniali ovviamente perché se hanno commesso dei peccati mortali arderanno nel fuoco eterno in questa visione apocalittica dell'aldilà che hanno i cristiani e coloro che li seguono che cosa succede? questi hanno commesso dei peccati veniali hanno pagato la pena per questi peccati veniali possono andare finalmente in paradiso però c'è un problema perché andrebbero in paradiso certo senza più la pena avendo scontato la pena ma con la memoria di aver peccato e questo non va bene perché il paradiso è un luogo come tutti sapete dove queste cose nemmeno la memoria deve passare e allora queste anime purgate si immergono fanno questo bagno come nell'acqua di Lourdes entrano lì dentro escono dall'altra parte dell'etè e si sono dimenticate quello che avevano fatto il l'etè è il fiume dell'oblio e l'etè la dea l'etè è la dea dell'oblio e allora a l'etè che cosa significa? significa qualche cosa che non è dimenticabile in altre parole qualche cosa che è dentro di noi e non possiamo scordarcene assolutamente e allora cosa significa questo? significa che la verità indicata dall'all'etè è una verità che noi abbiamo già dentro non c'è bisogno che la scopriamo a volte magari non facciamo attenzione non prestiamo attenzione a questa verità ma se solo ci concentriamo un momento questa verità è lì davanti a noi perché è inolvidabile indimenticabile è una strana concezione di verità però se ci pensiamo un momento nella modernità ad esempio chi di voi ha studiato filosofia ha letto libri di filosofia le meditazioni di Cartesio incominciano proprio così voglio sapere che cosa succede a questo mondo e allora cosa faccio? chiudo gli occhi e penso oggi insomma a scuola non ci insegnerebbero questo voglio sapere come è fatto il mondo apre gli occhi guarda come sono fatti le cose ma i razionalisti pensavano il contrario pensavano appunto che le cose fossero già qui dentro e allora se voglio sapere come sono devo soltanto avere un momento di tranquillità appunto chiudo gli occhi ci penso e cerco di ritirarle fuori non di ricordarmene perché sono indimenticabili ma soltanto di concentrarmi su di esse e allora questa è appunto la verità di ragione a differenza dalla verità in realtà scientifica che ha a che fare con la natura qualche cosa che deve essere scoperta e notate che in tutto questo discorso sulla verità che è partita appunto da Calipso velata e poi ha scoperto l'etena l'oblio eccetera noi abbiamo sempre parlato di verità e nel concetto che noi usiamo di verità non c'è né l'indimenticabile e nemmeno ovviamente il il disvelamento eccetera c'è una parola diversa perché perché noi non siamo greci noi siamo italiani deriviamo ovviamente dai latini i latini avevano una loro tradizione che solo in parte era greca e la tradizione che si riferisce alla verità è una tradizione completamente diversa da dove arrivo arriva dalla parola ver che è un prefisso indoeuropeo che indica la barriera una barriera un muro che si erge di fronte a ciò che c'è cioè l'idea dei latini non era che la natura fosse lì fosse coperta da un velo ma si potesse in qualche modo scoprire non era nemmeno ancora come quella dei razionalisti nel fatto che basta chiudere gli occhi e poi ci pensiamo e ci arriviamo dove vogliamo arrivare è qualche cosa che intanto c'è un muro davanti non potremmo mai sapere cosa c'è dietro è qualche cosa che non possiamo raggiungere attenzione in parte il motivo per cui noi siamo italiani e anche perché deriviamo da questa concezione di verità che ci hanno tramandato i latini e che è diversa da quella dei greci e per questo anche che noi siamo così poco scientifici e così poco razionalisti perché abbiamo un concetto diverso di verità questa barriera un muro dovrebbe essere diritto messo di fronte alle cose a volte questo muro non è ben fatto è storto e allora di qui derivano le espressioni anzitutto il diritto che cos'è che noi chiamiamo il diritto è la legge semplicemente è ciò che si fa nei tribunali la nozione di verità dei latini è qualche cosa che ha a che fare con la verità che si determina nei tribunali e quando il muro non è diritto è storoto allora noi diciamo ancora oggi dobbiamo raddrizzare i toroti che a volte sono per esempio i bastoni eccetera che anche loro sono contorti ma spesso c'è questa barriera che dovrebbe essere diritto e che invece è storta e allora che cos'è la verità latina che non è la verità di ragione e non è nemmeno la verità scientifica è la verità di fede è la verità di colui che dice credo che queste siano le cose perché me l'ha detto qualcuno e chi è che lo dice in tribunale e beh è il giudice ovviamente che emette la sentenza come si chiama la sentenza si chiama ver detto e cosa significa ver detto verum dicere cioè semplicemente è la dichiarazione di verità è il giudice che determina decide lui che cos'è la verità e cosa diciamo noi che il tribunale lo leggiamo tutti i giorni sui giornali tra l'altro arriva una sentenza e il giornale dice il tribunale ha determinato o ha stabilito la verità ma il tribunale dovrebbe scoprirla la verità se fosse un'idea scientifica cioè il fatto che qualche cosa è successo e il tribunale è riuscito a capire che cosa è successo invece no si dice il tribunale ha deciso ha stabilito la verità e infatti si usa un verbo che è verificare verificare di nuovo verum facere si rende vero la dichiarazione di verità il verdetto rende vero è lì che sta il senso della verità e capite che sono cose molto diverse ci sono verità diverse al mondo la verità di fede è quella appunto che si stabilisce nei tribunali oppure quella della religione che in realtà è stabilita da un libro la rivelazione e così via che poi appunto in qualche modo si rifà anche all'altro concetto bene questi erano dei preamboli diciamo così a un certo punto però dobbiamo arrivare prima o poi a Ulisse voi direte ma cosa c'entrano queste cose con oh c'entrano moltissimo perché Ulisse ha molto a che fare con la verità o meglio ha molto a che fare con il contrario della verità perché Ulisse era un gran mentitore era l'esempio tipico l'archetipico per i greci di colui che mentiva quali esempi avevano di menzogne i greci beh i greci avevano scoperto ad un certo punto che c'erano popoli che già loro insomma erano come erano come diceva Cicerone i greci sono pesi mai cretesi ne parliamo e i cretesi erano identificati come il popolo che mentiva sempre ad un certo punto qualcuno verso il terzo quarto secolo prima della nostra era e Ubuliden e gente di questo genere poi Epimenide scoprirono un paradosso un paradosso che è un piccolo gioiello che ha a che fare con il concetto di verità e di falsità e il paradosso è semplicemente questo i cretesi che sono considerati come personaggi che dicono che mentono sempre ad un certo punto ne arriva uno di questi cretesi che dice io sono cretesi e i cretesi mentono sempre ahia perché se è vero i cretesi mentono sempre lui è un cretese e quindi appena detto qualche cosa dovrebbe essere falso come facciamo a credergli e allora la versione diciamo così smaterializzata lasciando perdere i cretesi eccetera di questo paradosso è semplicemente uno che molti di voi avranno fatto esperienze di questo genere sono stati arrestati per qualche piccola cosa che hanno fatto poi rilasciati come sempre succede ma comunque portati di fronte ai carabinieri e ho visto ci sono dei vigili ma non dei carabinieri non mi sembra questa sia spero che poi altrimenti la pagano e vengono interrogati magari dai carabinieri cosa ha fatto a un certo punto il carabiniere dubita ma dice questo non me la sta raccontando giusta e allora fa la domanda fatidica dice ma lei sta dicendo la verità e supponete che quando il carabiniere vi chiede lei sta dicendo la verità voi rispondiate no il carabiniere si trova in difficoltà perché dice cosa significa questo vediamo cosa significa in altre parole quello che appena parlato il testimone ha detto io mento perché ha detto non sto dicendo la verità ora il carabiniere pensa dice ma avrà detto il vero o avrà detto il falso vediamo sono due casi quindi non è che andiamo molto per le lunghe supponiamo che abbia detto il vero allora se ha detto il vero poiché ha detto io mento e beh quello che ha detto è vero ma ha detto che mentiva quindi se è vero quello che ha detto è falso allora non è possibile sarà l'altro ah momento perché se è l'altro allora vuol dire che non è vero quello che ha detto ma se non è vero quello che ha detto poiché ha detto che mentiva deve essere vero contrario quindi deve aver detto la verità e allora sia in un caso che nell'altro se ha detto il vero ha detto il falso se ha detto il falso ha detto il vero e si entra in un circolo vizioso quindi questo è un suggerimento ai carabinieri eventualmente presenti non chiedete mai i vostri testimoni se hanno detto la verità perché se poi vi dicono no siete fregati ora cosa c'entra Ulisse con tutto questo c'entra perché quando nel dodicesimo canto ad un certo punto lui arriva e naturalmente sta avviando verso casa sta passeggiando chi gli appare vicino palla di Atena perché questo è il refrain il ritornello della canzonetta di Omero e lui non sa che c'è palla di Atena lì quindi non l'ha ancora riconosciuta lei gli chiede ma lei da dove arriva di chi è e lui dice sono un cretese lo sapeva che i cretesi mentivano quindi voleva stava lì dandole un indizio alla divinità forse voleva prenderla in giro magari l'aveva riconosciuta tanto era nella sua testa e basta eccetera poi arriva finalmente a Itaca l'abbiamo detto nella seconda parte nel canto quattordicesimo uno delle prime persone che vede è il suo vecchio servo Eumeo che naturalmente non lo riconosce appunto lui è vecchio e poi sono passati vent'anni eccetera e gli dice oh viandante chi è lei da dove viene e dice tanto per cambiare sono un cretese vabbè abbiamo capito che ci vuoi a tutti i costi far capire che sei un mentitore e poi diciamo così la ciliegina finale c'è nel canto diciannovesimo quando finalmente si trova di fronte conosco il segno dell'antica fiamma e si trova di fronte a Penelope e quando si trova di fronte a Penelope lei ovviamente nemmeno lei la riconosce grande amore altro che il cuore che batte quando no eccetera e gli dice chi sei viaggiatore e come tutti i contaballe di questo mondo quelli che sanno contare bene le balle che cosa dice lui sono il nipote sapete il nipote di Minosse ora perché dice sono il nipote di Minosse perché non c'era ancora Mubarak perché Minosse era il re di Creta quindi non solo dicendo sono il nipote di Minosse dice sono un cretese ma sono addirittura parte della famiglia reale cretese proprio mi faccio vanto e così via e quindi quando noi abbiamo svillaneggiato quest'uomo che in fondo ha dell'utri tra i suoi consiglieri grande bibliofilo probabilmente erano citazioni queste sono la nipote di Mubarak questa è la grande odissea del coro va bene allora grazie Ulisse comunque è considerata appunto per questo ho fatto questa divagazione sulla verità proprio perché è considerata il mentitore per eccellenza al punto che vi ho detto quando doveva andare in guerra agli inizi lui non ci voleva andare e addirittura cerca di mentire con gli eroi greci che vengono a chiedergli di arruolarsi per la grande guerra che andranno a liberare Elena da Troia eccetera e lui si nasconde addirittura si traveste mente addirittura nei vestiti cerca di farsi passare per qualcun altro non sono io non devo venire per farsi passare per un contadino ma questi lo scoprono subito dice eccolo qua Ulisse che si sta nascondendo bene siamo arrivati al dunque allora qual è il problema di voi perché poi ricordatemi stiamo arrivando ma allora nel canto undicesimo in quei flashback che vi ho detto nella seconda parte della prima parte cioè nei canti nella terza parte della prima parte insomma nei canti dal nono al dodicesimo lui sta raccontando alcune cose che gli sono successe una di queste ancora più incredibile delle altre ma poi intanto sarebbe anche questa diventata un topos della letteratura fantastica di altri tempi e di altri luoghi dice sono sceso nel regno dei morti vabbè ok questo ce la raccontano e così via e chi ti trova nel regno dei morti quando quando ci scende ci trova un signore che si chiama Tiresia che era un indovino cieco siamo sempre qua naturalmente Omero era cieco Borges era cieco Tiresia era cieco perché perché l'idea è proprio quella che vi ho accennato prima della verità dei greci non c'è bisogno di guardare se uno vuole la verità razionale anzi Carteggio chiude gli occhi e chi meglio di un cieco no non ha nemmeno bisogno di aprirle perché intanto non vede vede col potere della mente e non ha bisogno del potere degli occhi è una visione diversa e allora che cosa gli dice Tiresia gli predice il futuro e Ulisse chiede ma dopo tutto sto peregrinare ci arriverò finalmente da moglie mia da Penelope oppure no e Tiresia gli dice queste parole allora sentiamo così brevemente alcuni dei versi pur sebbene a gran pena ita cavrai sol che te stesso e i tuoi compagni affreni quando tutti del mar vinti perigli approderai col benformato legno alla verde trinacria isola in cui pascon del sol che tutto vede ed ode i nitidi montoni e i buoi lucenti se pasceranno illesi e a voi non caglia che della patria il rivederla dato benché astento vi fia ma dove osiate lana o corno toccargli e cidio ai tuoi e alla nave io predico e a te stesso e ancor che morte tu schivassi tardo fora ed in fausto e senza un sol compagno e su nave straniera il tuo ritorno a parte questi versi così che cosa gli dice Tiresia gli dice guarda che attenzione che c'è un passaggio la stretta finale di come si direbbe nella musica quando tutte le voci convergono bisogna uscire da questa stretta la stretta è quando arrivi in Sicilia Sicilia potrebbe essere la tua tomba perché in Sicilia la Trinacria isolano l'isola a tre punte ci sono le mandrie del sole e il sole è gelosissimo di queste mandrie e se tu gli provi a toccare queste mandrie a mangiartele a uccidetele eccetera ti dico che tutti i tuoi compagni moriranno e tu solo ritornerai ma con grandi pericoli e con grandi pasticci va bene allora questa è la prima profezia che gli viene fatta ce n'è un'altra in seguito perché vi ricordate in uno di questi flashback ovviamente Ulisse racconta di quando è stata da Circe e Circe anche lei ha cercato di trattenerlo eccetera a un certo punto quando lui parte anche lei che è una maga ovviamente quindi come il profeta il veggente Tiresia anche lei vede il futuro e gli fa a Ulisse la stessa profezia di Tiresia non è difficile perché Romero che stava inventando quindi poteva mettere tutto insieme ma comunque allora cosa dice Circe questa volta è lei che parla dice allora incontro ti verranno le belle spiagge della Trinacria isola dove pasce il greggio del sol pasce l'armento sette branchi di boi danielle tanti e di teste cinquanta i branchi tutti non cresce o scema per natale o morte branco e le dive sono i loro pastori fetusa e lampezzi e il cringricciute che partorì di perione al figlio ma questo non importa eccetera e vanno avanti eccetera l'importante è che gli dice di nuovo ci sono queste mandrie del sole non le toccare perché altrimenti no finisci male però Circe che sa come attirare l'attenzione degli uomini dà delle informazioni di più di quelle di Tiresia dice quante sono queste vacche del sole eccetera di teste cinquanta i branchi tutti quindi sono branchi di cinquanta di cinquanta animali ce ne sono sette branchi di boi e sette danielle danielle tante totale quanti sono? quattordici qualcosa quattordici vabbè è vero quattordici branchi ma cinquanta animali in ciascuno quindi quattordici per cinquanta adesso dobbiamo andare a fare i conti grassi grossi se non facciamo questo cinquanta per quattordici fa c'ho il calcolatore qua fa settecento ecco allora che ci dà un'informazione questo può essere interessante perché sappiamo che queste famose mandrie del sole erano poi settecento animali insomma non è che fosse una gran cosa questo sole faceva tanto il sofisticato però nel dodicesimo canto finalmente che è quello al quale siamo arrivati in questo canto arrivano Ulisse e i suoi compagni Scilla e Caridi oltrepassate in faccia la feconda ci apparve isola mena ove il greggio del sol pace e l'armento c'è sempre la stessa storia si arriva finalmente alcuno Ulisse e i suoi compagni scendono sulle spiagge dell'isola Trinacria vedono queste queste mandrie prima Ulisse cerca di convincerli a non scendere perché dice gli avvisi all'ormi si svegliaro in mente del te bambate di Tiresi e della maga Circe che io l'isola schivar del sol dovessi di cui rallegra ogni vivente il raggio ondio compagni l'ordicea sembra Dante compagni dice però gli fa un discorso diverso per quanto siate angosciati la sentenza udita del te bambate della maga Circe che io l'isola schivar debba del sole di cui rallegra vivente il raggio esattamente uguale a prima Circe affermava che il maggior dei guai quivici in coglieria dice attenzione perché qui la cosa peggiore che abbiamo mai visto non ci può arrivare lasciarla indietro ci conviene dunque con la negra nave per un intero e poi naturalmente lui cerca di convincere e loro gli dicono no ma dice se non ce la facciamo più avviciniamoci perlomeno alle rive si avvicinano alle rive andiamo a mangiare avevano delle provviste ancora sulla nave quindi Ulisse pensa dice vabbè forse non è poi così preoccupante mangiamo quello che abbiamo e poi ce ne ripartiamo solo che succede l'imprevisto e l'imprevisto qual è per un intero mese Austro giammai di ispirar non restava e poscia fiato non sorgea mai che di Levante o d'Austro non c'era vento per un mese non si leva il vento e le navi non possono partire notate che è esattamente l'inizio dell'Iliade vi ricorderete quando poi c'è il sacrificio della figlia di Agamem di Figenia quando i greci devono partire per andare a fare la guerra a Troia e non si alza il vento quelle erano navi a vela cosa si può fare bisogna aspettare e allora avevano questa strana idea che se uno ammazzava la figlia del re magari qualcosa succedeva e infatti Lucrezio inizia il suo capolavoro il dererum natura proprio portando questo episodio come esempio della stupidità che la religione instilla nella mente dell'uomo che tu puoi fare sacrifici agli dei ammazzare una giovane che non ne può nulla eccetera e allora che cosa ci racconta Ulisse ci dice beh noi eravamo lì per un mese abbiamo dovuto aspettare ad un certo punto il vento non si alzava tutte le provviste finiscono ci abbiamo le pecore vi ricordate quel film di Manfredi quando c'era la gallina che in realtà viene processata perché diceva l'uomo non è di legno perché aveva violentato la gallina perché ormai viveva in montagna e qui è la stessa cosa si vedono passeggiare questi buoi queste vacche queste pecore e loro non hanno più da mangiare e allora Ulisse che cosa pensa dice mi viene una bella idea dice vado sul monte a pregare certo e allora va esattamente come fa Mosè tra l'altro notate che la storia si ripete tra l'altro perché Mosè anche aveva fatto così sale sul monte per andare a sentire che cosa doveva dirgli la nuvola o il roveto e mentre lui sale quegli altri di sotto incominciano a sacrificare il vitello d'oro qui esattamente la stessa storia Ulisse parte dice non so più cosa fare vado sul monte poi chissà perché sul monte cioè se uno deve pregare a Dio non può pregare di qui vabbè comunque questa è una cosa che io miscredente non posso capire lui sale sul monte e mentre sale sul monte saltano sulle mandrie e incominciano a farsi gli spiedini quando lui torna esattamente la stessa cosa che succede anche ovviamente a Mosè Mosè torna e vede il vitello d'oro rompe le tavole della legge non succede un patatracno Ulisse torna e capisce che ormai la profezia si è avverata hanno sterminato perlomeno hanno usato abusato delle mandrie del sole e quindi loro moriranno e poi c'è tutto un racconto dettagliato su come si fanno gli spiedini ma questo a noi non importa perché a noi interessa interessa il finalmente siamo arrivati chi non vuole sentire la matematica può andarsene a questo punto questo è il racconto dell'odissea ma è un racconto povero perché anzitutto è scontato in tante delle cose che succedono come ho detto è ripetuto tre quattro volte le stesse storie eccetera e poi soprattutto quello che dà fastidio in matematica sono sti settecento capi di bestiame ma santo Dio il sole dovrebbe essere una cosa straordinaria in Sicilia in tutta la Sicilia ci sono settecento miseri capi allora cosa succede succede che altri greci vogliono far vedere a Omero che forse magari non sono dei letterati ma possono scrivere dei poemi se solo vogliono e fare dei poemi anche magari meglio di quelli che facevano i letterati anzitutto arriva un periodo noi siamo nel secondo secolo prima della nostra era in cui il grande figlio della Trinacria isola dove pascolano gli armenti arrivano e chi è il grande matematico di quel periodo è Archimede ovviamente il più grande genio dell'antichità e uno dei più grandi di tutta la storia insieme probabilmente a Newton e Einstein non sono la nostra santissima Trinità e allora Archimede vuole capire anzitutto questa questione delle spiagge perché Omero dice sì le spiagge della Trinacria isola ma un po' più di precisione non si potrebbe avere per esempio quanti sono i granelli delle spiagge della Sicilia questo è un problema interessante e magari anche di più uno vorrebbe sapere allora che fa prende carta e penna o l'analogo dell'epoca cera e stiletto e scrive al tiranno di Siracusa Gelone e gli dice state a sentire alcuni o Re Gelone credono che il numero dei granelli di sabbia sia infinito e mi riferisco non solo ai granelli che si trovano a Siracusa nei suoi dintorni o nel resto della Sicilia anche ma nell'intero mondo abitato o no cioè vuole sapere quanti sono i granelli di sabbia di tutto il mondo questo sì che è finalmente un problema che si deve altri credono notate che lui dice alcuni credono che il numero dei granelli di sabbia sia infinito perché la cosa più ovvia è che uno dice prendo un pugno di sabbia già mi accorgono che di granelli qua ce n'è parecchi se poi devo pensare a quelli che ci sono in tutto il mondo ce ne saranno infiniti e lui dice altri credono più sensati che il numero dei granelli sia finito ma che non se ne possa descrivere uno maggiore di esso cioè no è un numero finito ma più grande non c'è ora evidentemente quelli lì non conoscevano Zavattini per esempio qualcuno di voi avrà letto questo racconto di Zavattini che si chiama la gara di matematica è una gara in cui c'è un papà meglio un bambino che ormai è diventato adulto che ricorda quando era bambino appunto che il papà l'aveva portata a questa gara di matematica la gara di matematica sarebbe stata vinta da chi avesse nominato il numero più grande possibile e allora il bambino dice sono andato con mio papà la mamma è rimasta a casa e lui mi ha portato c'era tutta la gente sugli spalti che faceva il tifo tranne immaginare che si faccia il tifo per cose di questo genere ma comunque evidentemente nella fantasia di Zavattini non si poteva fare e allora cosa succede? si comincia agli inizi 5, 20, 2 mila un miliardo cioè vabbè qui è solo riscaldamento e ad un certo punto ce n'è uno che dice un numero enorme sembra che abbia vinto invece il papà del bambino scende nell'arena e incomincia a dire un miliardo di miliardi di miliardi di miliardi di miliardi e poi comincia gli manca il fiato va giù per terra continua a dire un miliardi di miliardi di miliardi di miliardi e alla fine è lì quasi agonizzante e tutti cominciano ormai ad alzarsi in piedi a battere le mani perché lo vogliono decretare il vincitore della gara e si sente rantolare da uno di quelli che erano stati ormai battuti così per terra che dice più uno e allora naturalmente poi il bambino ricorda che il papà lo porta a terra lo riporta a casa piangente la mamma lo vede lo abbraccia e il papà gli dice se avessi detto più due avrei vinto io e allora il problema qui è questo qua che dice alcuni credono che il numero dei granelli di sabbia sia finito ma che non se ne possa descrivere uno maggiore di esso sono ingenui perché pensano di aver trovato un numero più grande ma quando uno dice più uno è tabella che fregato ce n'è uno di più uno e quindi è più grande o almeno dice lui maggiore del numero dei granelli di sabbia necessario a ricoprire tutte le caverne i mari a ricoprire le cime di tutti i monti eccetera eccetera ma io Archimede ti mostrerò che fra i numeri che ho nominato in un libro eccetera ce ne sono alcuni che superano il numero dei granelli di sabbia che riempirebbero non solo la terra intera ma addirittura l'intero universo qui questo fa come il papà del bambino faccio un cambio di marcia non mi interessa più i granelli della terra tutto l'universo quanti sono i granelli di sabbia che possono riempire l'intero universo adesso a questo punto si è messo in gioco bisogna calcolare ma non è un calcolo poi così difficile se ci pensate perché l'universo come è fatto questo è il problema uno dei problemi i granelli di sabbia possiamo immaginarci sono dei pallini piccoli piccoli hanno una certa dimensione delle sferette l'universo come ce lo si immagina beh si può immaginarselo come una grande sfera allora l'idea è se io so qual è il volume della sfera e poi faccio il rapporto fra il volume della sfera e il volume del granellino so quanti sono i granellini che riempiono l'universo quindi l'unica cosa che ci rimane da fare è sapere quanto è grande la struttura dell'universo e qui in questa lettera Archimede ci lasciano una delle testimonianze più straordinarie dell'antichità in due o tre righe sentite queste righe e poi le meditiamo per un momento dice le ipotesi di Aristarco ci cita un signore appunto vissuto qualche anno prima dice sono che le stelle fisse e il sole non si muovono notate le stelle fisse che sono fisse per definizione e il sole non si muovono che la terra giri attorno al sole su una circonferenza in cui il sole sta al centro e che la sfera delle stelle fisse anch'essa avente il sole nel centro è così grande che il rapporto fra essa e l'orbita terrestre è uguale al rapporto fra l'orbita terrestre e la sfera terrestre cioè il raggio della terra o il diametro della terra ora queste queste poche righe 4 o 5 righe non sono veramente strabilianti perché siamo tre secoli Aristarco 3 o 4 secoli Archimede 2 prima della nostra era e in particolare 2000 anni prima del 1633 che è l'anno in cui Galileo viene processato per aver introdotto queste novità cioè il fatto che il sole sta al centro del sistema solare probabilmente di quel sistema che all'epoca sembrava essere tutto il mondo e che invece era già stato proposto e immaginato da un greco molti secoli prima due millenni prima allora di cosa si stava processando Galileo se questa era una cosa così antica e beh i preti non lo sapevano gli inquisitori inquisitori erano fermi alla loro Bibbia quelli erano i loro testi ma i greci erano andati naturalmente molto avanti nel frattempo e non solo Galileo non pretendeva di aver inventato lui il sistema copernicano infatti lo chiamavano copernicano era il sistema prodotto da un abate tra l'altro un abate polacco che si chiamava Copernico il quale non solo aveva proposto che il sole fosse al centro del sistema solare la terra girasse intorno e poi le stelle fisse fossero lassù intorno ancora bensì aveva detto guardate che questa proposta non sono io il primo che la facciano già i greci duemila anni fa l'avevano fatta e citava Aristarco come faceva citare Aristarco citava perché sapeva che c'era questa lettera di Archibede al tiranno gelone che parlava di questa visione del mondo cioè i greci erano enormemente più avanti di quello che si poteva immaginare e certamente enormemente più avanti degli inquisitori di duemila anni dopo e allora che cosa fa Archibede fa tutti i calcoli che naturalmente deve fare fa le proporzioni quindi sappiamo che le stelle fisse stanno all'orbita terrestre come l'orbita terrestre sta al raggio terrestre o al diametro terrestre ahi c'è un problema però quant'è questo raggio terrestre e beh qui c'era un signore un greco che si era posto però anzitutto gli greci sapevano che la terra era rotonda perché nonostante appunto di nuovo i preti eccetera il medioevo discutessero terra pianta eccetera i greci lo sapevano da sempre che la terra era rotonda come mai beh basta vedere per esempio un'eclisse quando si vede l'eclisse e l'ombra della terra si proiettano sulla luna e beh basta guardare e si vede che l'ombra è inclinata quindi che non è fatta certamente da qualche cosa di piatto bensì è fatta da qualche cosa di rotonda la terra è rotonda fa un'ombra rotonda dunque per forza deve essere rotonda oppure basta andare lungo il Nilo ad esempio il Nilo tra l'altro è praticamente un fiume rettilineo che va da sud a nord verso il Mediterraneo verso l'Alessangia d'Egitto passa attraverso le Cateratte eccetera e uno passeggia lungo il Nilo e si accorge guardando il cielo di notte che le costellazioni cambiano salgono o scendono nel cielo che vuol dire che ci si sta muovendo certamente non in piano perché altrimenti rimarrebbero lì pensi si sta muovendo su qualche cosa che è rotondo o non c'è bisogno poi nemmeno di fare tutte queste grandi cose basta guardare il mare mentre Ulisse è lì sull'isola di Ogigia può anche fare un'osservazione scientifica mentre c'è vede una nave che arriva e la prima cosa che vede della nave che arriva sono gli alberi la punta degli alberi e solo alla fine vede lo scafo che sta arrivando come mai? e beh ovviamente se la nave stesse arrivando in piano si vedrebbe tutte insieme e invece si vede perché sta salendo lungo la curvatura della terra quindi queste cose i greci le sapevano benissimo sapevano addirittura talmente tante cose e questa forse vi stupirà che avevano persino scoperto l'esistenza dell'America voi direte non erano i vichinghi ma non c'entrano i vichinghi perché i greci l'avevano scoperta per davvero come avevano fatto un altro signore molto importante nella storia della scienza praticamente sconosciuta in più che non si interessano di scienza che si chiama Ipparco anche lui ha vissuto un paio di secoli prima della nostra era che cosa aveva fatto? aveva visto che i greci insieme ad Alessandro Magno erano andati in India verso il 300 così Alessandro era arrivato fino alle foci dell'Indo si era portato dietro ovviamente tutto un gruppo di osservatori di scienziati che stessero a osservare quello che vedevano mentre si muovevano in questi viaggi di conquista e questi osservatori avevano osservato come erano le maree dell'oceano indiano quali erano le periodicità le altezze delle maree eccetera avevano scoperto che era una cosa completamente diversa all'oceano indiano dal mar Mediterraneo ma questo si sapeva il mar Mediterraneo è un catino chiuso mentre quello è l'oceano aperto però un'altra spedizione più o meno nello stesso periodo era andata verso i mari del nord e aveva fatto osservazioni analoghe aveva osservato le maree dei vari del nord eccetera e si era accorto che comunque anche quelle erano completamente diverse non solo da quelle del Mediterraneo ma da quelle dell'oceano indiano e allora mentre il Mediterraneo era un catino chiuso non dava fastidio ma il fatto che le maree dell'oceano indiano e quelle del mare del nord fossero diverse faceva sì che non poteva essere lo stesso oceano perché altrimenti sarebbero stati quello che si chiamano i vasi comunicanti quindi si sarebbero alzati e sollevati e abbassati nello stesso modo e allora qual era l'idea di Aristarco ci deve essere qualcosa che interferisce che è messo tra l'oceano indiano da una parte e tra il mare del nord dall'altra che chiude la via all'acqua e non può essere un continente anche grande lui non lo diceva ma noi potremmo dirlo così come l'Australia perché benché grande l'Australia è purtroppo un'isola in cui l'acqua passa sopra e sotto quindi deve essere diceva Iparco un continente che parte da un polo e arriva fino all'altro polo aveva capito che ci doveva essere un continente americano che è fatto esattamente come è fatto cioè che parte da una parte e arriva fin dall'altra altrimenti queste maree sarebbero diverse quindi questi erano i greci di una volta e allora Archimede si basa su queste idee fa un conto e il conto che fa è un numero che è parecchio grande ed è quello che oggi noi con le nostre notazioni indicheremo come 10 alla 63 10 alla 63 significa 10 1 con 63 0 dopo che sono tanti ma non è che siano tantissimi poi 0 0 0 0 eccetera ora perché Archimede voleva fare questo conto perché voleva insegnare i greci che la loro lingua forse era una lingua un po' limitata l'abbiamo già visto prima non avevano nemmeno le cifre per i numeri quindi dovevano usare le lettere dell'alfabeto eccetera come facevano a indicare i grandi numeri avevano una parola che indicava il numero più grande possibile e questa parola è una parola che ancora noi oggi usiamo in un senso però più che altro metaforico benché all'epoca avesse un significato preciso e si chiamava miriade la miriade era 10 alla quarta cioè 10.000 tutto qua e allora quando noi oggi diciamo una miriade di stelle la miriade di stelle è poco sono 10.000 stelle però per noi è diventato un grande numero perché lo era per i greci però se è 10 alla quarta e dobbiamo scrivere 10 alla 63 facciamo 64 che viene più facile 64 diviso 2 fa 32 diviso 2 fa 16 bisogna dire una miriade di 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 miriade sono solo a metà siamo arrivati a 8 e bisogna dirlo 16 volte e chi si accorge se poi l'abbiamo detto 16 o 17 o 15 nessuno se ne accorge non si possono indicare i numeri grandi in questo modo così banale allora l'idea di Archimede era per poter parlare di numeri così grandi dobbiamo avere un sistema di notazioni e lui si inventò un sistema di notazioni in cui si iteravano i numeri in righe in colonne eccetera e riuscì a dare dei numeri molto più efficaci che le miriade di miriade di miriade per numeri così grandi che fino agli inizi del novecento pensate voi del 1900 nessun matematico nessuno scienziato ha mai usato numeri che non si potessero nominare nel catalogo diciamo così di Archimede cioè ha fatto un passo che per duemila anni è riuscito a dare nomi a numeri grandi questa era l'idea non è che gli interessasse tanto le granelli di sabbia e comunque la lettera finisce poi dopo aver spiegato tutte queste cose al re che mi immagino a questo punto fosse addormentato da un pezzo dice immagino che queste cose o re gelone appariranno incredibili alla maggioranza di coloro che non hanno studiato matematica ma convinceranno invece coloro che la conoscono e hanno meditato su questioni come le distanze e le misure della terra della luna del sole e dell'intero universo ed è per questo che ho pensato che l'argomento non sarebbe stato inappropriato per l'attenzione di un re e naturalmente anche di un uditorio come il vostro ma siamo soltanto alla sabbia quindi questo c'è stato avete capito questo salto di qualità quell'altro che dice arriveranno le spiagge la trinacria isolano e questo dice quanti granelli di sabbia ci sono calcoliamo quanti ce n'è nell'universo eccetera ma ci sono ancora le vacche del sole e allora Archimede questa volta capisce che qui deve proprio stracciarlo questo povero Omero che era arrivato fino a 700 e allora capisce che deve inventarsi un problema e si inventa questo problema però lascia perdere il re che ha capito che insomma più in là di tanto non andavano e si indirizza a un signore che si chiama Eratostene perché Eratostene perché era uno pari a lui era un signore che aveva permesso a Archimede di fare il calcolo che vi ho appena detto perché era colui che aveva calcolato qual era il raggio o il diametro poi naturalmente modificandolo per due della terra come aveva fatto Eratostene a calcolare il raggio della terra la terra era rotonda l'abbiamo detto quindi lo sapevano i greci e beh dunque aveva osservato anzitutto stiamo scoprendo non è che chiudiamo gli occhi guardiamo cosa succede e guardiamo in particolare cosa succede a Siene vicino alla diga di Aswandi oggi dove c'è un pozzo ancora oggi c'è un pozzo in cui a mezzogiorno dell'equinozio d'estate che cosa succede il sole casca perpendicolo dentro il il pozzo non fa ombra e allora Eratostene dice interessante ma non c'è bisogno che ci vada perché lo so che succede quello quel giorno io mi metto da un'altra parte e mi metto ad Alessandria e pianto un bastone se lo piantassi a Siene non succederebbe niente non si vede nulla perché il sole è esattamente sopra ma lo pianto ad Alessandria e questo fa un'ombra e quest'ombra quanto è lunga beh è lunga un certo cosa ma io posso fare la proporzione fra quest'ombra e quel fatto che là non c'è l'ombra e riesco a calcolare qual è l'angolo che fanno i due bastoni uno nella diga d'Uassan e l'altro ad Alessandria quando so quest'angolo poiché so che l'angolo intero è di 360 gradi basta che sappia qual è la distanza fra il pozzo e Alessandria per fare la proporzione e ottenere la distanza la lunghezza del diciamo così dell'equatore di tutto il giro è chiaro il calcolo come una torta semplicemente abbiamo calcolato la fetta della torta piantando due forchette due coltelli perpendicolari uno ad Aswan l'altro ad Alessandria sappiamo qual è l'angolo e facciamo la proporzione l'unica cosa che ci manca è sapere quanto è lunga questa distanza sulla terra tra Alessandria e Aswan e come si fa beh certo uno può andare col metro però insomma ci mette un po' di tempo e allora Ratoste ne ebbe un colpo di genio diceva io salto su un cammello e va davanti vediamo quanto ci mette intanto si va lungo il Nilo ve l'ho detto è sempre diritto e va per 50 giorni questo è l'esperimento di Eratosto si accorge ci vogliono 50 giorni a cammello per andare da Alessandria fino al Pozzo sa più o meno perché questo gli hanno detto i mercanti quante miglia quanti chilometri fanno il cammello in un giorno in media moltiplica per 50 e il gioco è fatto quanto gli viene 6300 chilometri il raggio della terra quanto è il raggio della terra 6340 chilometri e beh insomma fatto con questi mezzi a occhio gli è venuto abbastanza bene quindi questo era un genio uno di quelli che sapeva fare i conti come si deve e questo è un conto che tra l'altro è rimasto ineguagliato per millenni naturalmente perché vi fa vedere come si poteva andare molto lontano avendo anche dei mezzi molto rudimentali a disposizione e allora Archimede scrive una lettera ad Eratosto e gli dice amico tu che possiedi molta scienza calcola operando assiduamente il numero delle mandrie del sole che pascolavano un giorno sulle pianure dell'isola di Trinacria siamo rimasti lì siamo al canto dodicesimo che gli brucia questo Archimede però dice distribuite questa volta c'è un dispiegamento questo sembra l'esercito l'esercito di Saddam Hussein che poi in 448 non buttiamo a terra ma comunque quattro gruppi attenzione di diverso colore il primo bianco latte il secondo nero brillante il terzo di un fulvo dorato e il quarto screziato non importano i colori ma ci sono quattro colori delle vacche del sole in ogni mandria anzitutto c'è una quantità considerevole di tori così distribuiti allora i bianchi sono uguali alla metà aumentata di un terzo dei neri più tutti i fulvi i neri sono uguali alla quarta parte aumentata della quinta degli screziati più tutti i fulvi i restanti screziati uguali alla sesta e alla settima parte dei tori bianchi di nuovo più tutti i fulvi e così via e questi sono solitori poi ci sono pure le vacche e allora e qui uno comincia Omero si è già perso si è suicidato si è buttato in mare però la cosa interessante è che ci sono sette equazioni praticamente e la cosa non è poi così complicata perché sono sette equazioni ci sono otto incognite sono i quattro colori dei tori i quattro colori delle vacche si mettono insieme si risolve con quei metodi che impariamo nelle superiori non c'è che ci sia bisogno di essere ratostane per questo e infatti cosa dice Archimede dice amico quando avrai determinato esattamente quanti erano i tori del sole e avrai stabilito quanti di ciascun colore colore è la stessa cosa per le vacche non ti si potrà certo chiamare ignorante né incolto in materia di numeri ma certo non potrai ancora essere considerato un sapiente cioè gli ha detto questo è un riscaldamento soltanto lo fanno anche gli studenti delle scuole italiane tra duemila anni lo sanno fare non è difficile e se voi fate il calcolo se avete scritto quanto ho visto che tutti prendono appunti vedrete attenzione il sistema non è determinato sono sette equazioni ma otto incognite quindi ce n'è una che balla c'è un'informazione in meno quindi ci sono tante possibili soluzioni ma la più piccola di queste soluzioni possibili è 50 milioni oh finalmente da quei 700 miseri siamo arrivati a 50 milioni ma lui dice attenzione perché questo è ancora poco manca una condizione per poter rendere il sistema determinato ce ne vogliono otto di equazioni e allora lui dice esamina ora le maniere in cui i tori del sole erano raggruppati quando quelli bianchi si mescolavano ai neri formavano un gruppo con le stesse misure in profondità e larghezza e le vaste piane della trinacria erano riempite da questo ammasso quadrato i fulvi e gli screziati formavano invece un gruppo che cominciando con uno si allargava fino a comporre una figura triangolare qui Archimede ci sta dicendo una cosa che a scuola non abbiamo imparato perché noi se ci dava un'altra equazione ad aggiungere alle sette ne avevamo otto otto equazioni otto incognite facciamo i calcoli e troviamo il risultato ma lui ci dà sette equazioni e poi ci dice attenzione perché due di queste variabili messe insieme cioè i gruppi dei bianchi con i neri devono essere un numero quadrato e gli altri due messi insieme devono essere un numero triangolare ora i numeri quadrati quali sono? e beh sono molto pochi sono 4 ovviamente che è il quadrato di 2 poi 9 che è il quadrato di 3 16 che è il quadrato di 4 25 36 eccetera però ce n'è sempre meno e come facciamo ad andare a vedere che la somma di quei due deve essere proprio uno di quelli diventa complicato e poi non basta perché gli altri due devono essere un numero triangolare come si fa a fare un numero triangolare? beh ce n'è uno poi ce ne sono due che fa tre poi ce n'è altri tre che fa 6 poi 4 che fa 10 poi 5 che fa 15 quindi ci sono queste due serie di numeri strani che ancora oggi si usano soprattutto i quadrati infatti si dice sempre numero quadrato eccetera e lui ci dice dobbiamo aggiungere a quelle sette equazioni quest'altra condizione due numeri uno quadrato e l'altro triangolare quanto viene il risultato? ah e qui non sappiamo che cosa sia successo la fine della lettera dice semplicemente amico quando avrai trovato e disposto la soluzione a questo problema avrai indicato i numeri di tutte queste moltitudine allora riposati e congratulati per la tua vittoria e sappi che sarai arrivato alla perfezione in questa scienza ora noi non sappiamo anzitutto se era Tostene ci arrivò ma nemmeno Archimede non abbiamo nessuna notizia c'è questo problema il famoso problema dei buoi che notate è scritto in versi sono 44 versi perché questo voleva proprio anche andare a combattere diciamo così sul terreno di Amero ma chi è che ha risolto questo problema dei greci? eh potete immaginarvelo dei tedeschi perché così succede anche oggi quindi alla fine dell'ottocento nel 1880 due tedeschi riuscirono per la prima volta a risolvere questo sistema la prima parte facile ma la seconda parte da mettere insieme a quell'altra e venne fuori un numero che è dell'ordine di 10 alla attenzione i numeri del granelli di sabbia che riempivano l'universo erano 10 alla 63 1 con 63 zeri la soluzione di questo sistema delle vac del sole è 10 alla 200 mila cioè un 1 con 200 mila zeri di dietro ecco questa era l'idea di Archimede cioè trovare un problema che non è difficile da dire che addirittura ha un'ispirazione classica si ispira a tutte queste storie metaforiche mitologiche di Omero di Ulisse e così via che però anche con una semplice esposizione ci porta di necessità ad avere questi numeri enormi questo è quello che Archimede cercava di fare sul terreno della poesia andando molto oltre a Domero sono sicuro che voi naturalmente preferite invece le storielle di Circe di Nausica eccetera però avete dovuto avreste dovuto aspettarvelo che il matematico invece voleva andare a parare esattamente a questa cosa e siamo arrivati allora alla fine le vacche del sole sono 10 alla 200 e non 700 se avete domande bene altrimenti grazie grazie